Era solo questione di tempo, cioè non giriamoci troppo intorno perché Odermatt aveva già vinto in discesa al Mondiale, in Coppa del Mondo ancora non c'era riuscito, ci riesce oggi a Wengen, o a Wengen, che dirsi voglia, insomma, in Svizzera, quindi a casa sua, su una pista iconica, particolare, insomma, bella, veramente bella, a mio avviso. E quindi il suo urlo, il suo urlo dopo aver tagliato il traguardo, dice tutto, era il favorito, mantiene, insomma, il pronostico che viene, appunto, rispettato e quindi, che dire, dall'inizio alla fine, anche oggi, è sembrato comunque sciare su un binario, ecco, è sempre quella la cosa che ti balza all'occhio. Vedi la Kern & S, il passaggio ovviamente chiave, soprattutto in una discesa che non è quella completa, ma che è più corta, quindi che ha una partenza più bassa, quindi discesa più corta, un minuto e quaranta circa, più o meno un minuto e quarantadue, non ricordo adesso comunque. Lì, praticamente, non alza neve in ingresso della prima curva, no, della Kern & S, appunto. Esce fuori, praticamente, con la velocità più alta da quel tratto chiave, quindi, quando fai quel tratto così, quando comunque effettui i salti di gara con una linea pazzesca, quindi, non cambiando, no, in aria, non, ehm, non dovendo cambiare posizione quando atteri, eccetera, significa solo una cosa, che sei un mostro, sei un fuoriclasse e quando fai delle cose che tutti gli altri non riescono a fare, soprattutto, ecco, lì, in quel tratto della Kern & S, sei, sei un alieno e quindi meriti il successo che hai, perché arriva la prima vittoria in Coppa del Mondo in discesa, insomma, se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla Coppa del Mondo, su chi sia il favorito, ecco, credo che siano stati spazzati via, ma già anche prima di questa gara, ripeto, con questi campioni, se non sbagliano loro, se non succede qualcosa a loro, e ovviamente mi tocco, mentre lo dico, perché sembra che gliela voglia tirare, ma assolutamente no, cioè, gli altri gareggiano per il secondo posto. Fine. Poi, ovviamente, anche per i campioni, magari c'è la giornata no, la giornata in cui si risparmiano un po' di più e quant'altro, e quindi si aprono delle possibilità per gli altri, ma in generale, cioè, non c'è letteralmente storia. Quindi, grandissimo Otermath, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, discesa libera di Bengen, la prima, poi ce ne sarà un'altra sabato, quindi dopo domani, domani invece venerdì il Super G, e domenica, poi, vabbè, sempre nella località elvetica, uno slalom. Per quanto riguarda le ragazze, anche, visto che siamo comunque in tema di programmazione, di programma, Altermath, ovviamente, in Austria, discesa, domani, discesa e Super G, scusate, domani il primo dei due Super G, venerdì, quindi, sabato, la discesa, e domenica si chiude con l'altro Super G. Torniamo a Bengen, Otermath vince facendo benissimo dalla prima all'ultima parte, praticamente, di gara, già dalle spinte che si è dato dall'inizio, dalla velocità iniziale, proprio quel primissimo tratto, prima del primo salto, si è visto, insomma, si è vista la carica che avesse in corpo, e che, insomma, era il favorito, appunto. Quindi, quel primo tratto lo fa benissimo, si arriva alla Kern in S, è quello che è uscito con la velocità migliore, ed è quello che conta, principalmente. Poi, il tratto in piano di scorrimento, comunque, lo fa bene, e la seconda parte torna a guadagnare su un Kilde, che in quel momento era primo, che non può nulla, soprattutto se è un Kilde che, comunque, nell'ultima parte, non è che abbia fatto proprio benissimo. Infatti, mentre scendeva Kilde, perdeva, comunque, progressivamente, anche se pochissimo, da Stridinger, austriaco che era primo in quel momento di gara. Comunque, aprendo e chiudendo un attimo la parentesi su Kilde, il norvegese un po' influenzato, quindi qualche acciacco così, l'obiettivo era andare sul podio, eventualmente, c'è andato, terza posizione, quindi, credo che si reputi, insomma, soddisfatto. Terzo posto, a 81 centesimi, da un Odermatt, che, nel tratto finale e negli altri salti, insomma, le linee sui salti perfette, non deve modificare la direzione degli sci, cioè, né in volo, né praticamente quando atterra, quindi, ripeto, è come se fosse su un binario. E, alla fine, forse, rischia, per quanto stava andando forte, non dico che abbia rischiato fortemente di rimanere fuori, quindi di passare all'esterno dell'ultima porta, però, insomma, un pochino rischia, magari, per quanto va forte, però ha una linea anche ottima, proprio linea, nella curva finale, prima di tagliare il traguardo, quindi, benissimo, insomma, benissimo Odermatt, terzo Kilde, a 81 centesimi, che fa bene anche la parte lì della Kern-NS, e la parte iniziale, poi la parte finale è quella dove paga un pochino di più, però nel complesso bene. Seconda posizione, quindi, a panino, a sandwich tra Odermatt e il terzo posto di Kilde, Sarrazen. Se a questo francese avessero detto, un po' di giorni fa, un mesetto fa, circa, oh, nelle prossime gare, nelle prossime discese, una vittoria e un secondo posto a Wengen, cioè, penso che si sarebbe messo a ridere, non credo che nemmeno lui, ok che poi ognuno si conosce, ognuno sa le proprie sensazioni, eccetera, però, ovviamente, è nel periodo migliore della sua carriera, almeno fino a questo momento. Scenderà Sarrazen anche molto tranquillo, molto lucido, cioè, si starà godendo anche il momento, secondo me, è quello che mi trasmette, anche quell'esultanza alla fine, con volto anche rilassato, no? È ciò che mi trasmette Sarrazen, uno che si sta godendo il momento, che sta sciando veramente benissimo, e quindi, complimenti a lui, cioè, non può che far bene alle gare, in generale, un altro che si inserisce lì per la vittoria, per il podio. Certo, in ottica italiana, ovviamente, è un cliente scomodo in più, no? Eventualmente, per una lotta al podio, però, nel complesso, in ambito di gara, non può che far bene la presenza di Sarrazen, che, per come ha sciato pure oggi, cioè, il massimo distacco, prima dell'ultimo tratto, dell'ultimo intermedio, è stato di tre decimi da Odermatt. Cioè, nella prima parte, nella parte iniziale, quindi, partenza, poi, primo salto e intermedio, praticamente, prima dell'ingresso, poi, nella Kern & S, in quell'intermedio lì, stesso tempo di Odermatt, se non ricordo male. Poi, la Kern & S la fa bene pure lui, sappiamo che Odermatt, va bene, non alza per nulla la neve, c'è chi, poi, fa lo spazzaneve con entrambi i sci, chi fa lo spazzaneve con uno sci, in questo caso il destro, e parliamo, appunto, di Sarrazen, chi fa proprio doppio movimento, quindi, diciamo, una specie di pendolo, insomma, ci sono vari modi di mettersi in quella S. Sarrazen fa lo spazzaneve con uno sci, ma anche lui, cioè, entra bene, molto forte, ed esce molto forte pure lui, un po' meno forte di Odermatt, circa di un chilometro orario, però, molto forte pure lui, quindi significa, sintomo che, l'ha comunque affrontato molto bene quel passaggio, e infatti poi, all'uscita poi, dopo la galleria, quindi nel tratto di scorrimento, ha poco più di due decimi di distacco, poi poco più di tre decimi, e poi va bene, nell'ultima parte paga un pochino di più, e quindi chiude a 58 centesimi, cioè, che gli devi dire, praticamente mezzo secondo dal mostro, dall'alieno del momento, cioè, è una vittoria per Sarrazen, punto e basta, punto e basta, quindi, bravissimo, ma bravissimi tutti quelli che sono andati sul podio, bravissimo pure, Florian Schieder, primo degli italiani, quarta posizione, un super legno, perché comunque, cioè, per uno, come Schieder, che non è un campionino, non è abituato a vincere, e, e, a salire sul podio anche, cioè, quarto posto, sì, ti lascia un po' la mano in bocca, perché ha poco più di un decimo da Kilde, su una pista del genere, però, cioè, è un gran quarto posto, il primo degli italiani, il primo, in assoluto, fuori dal podio, quindi, bene così, cioè, non posso, non posso aggiungere altro, Paris, in quinta posizione, ha poco più di un secondo dal, dal vincitore, ah, tra l'altro, Schieder è l'unico, assieme a Sarrazen e Kilde, ad aver chiuso, al di sotto del secondo dal vincitore, quindi, anche quella, se vogliamo, un, un, anche quello, un merito in più, no? Paris, in quinta posizione, una pista che non gli va troppo a genio, soprattutto, per quel passaggio lì, particolare, della Kern & S, però, quinta posizione, se, se quelle sono le premesse, ossia, un Paris non proprio, totalmente, a suo agio, no? su una pista del genere, e allora, direi pure che, che, che va bene come risultato, anche se lui è stato il primo a dire, no? nell'intervista, post-gara, di aver sbagliato, di non essere totalmente, cioè, soddisfatto, ovviamente, ma, è ovvio che sia così, cioè, si punta sempre a fare, la gara perfetta, si punta sempre a fare, eh, molto bene, però, nel complesso, quinto posto, che ci sta? casse, chiude in settima posizione, se non erro, comunque, terzo ed ultimo, italiano, in top 10, e, a livello, no? di prova di squadra, bene, cioè, tre italiani in top 10, due italiani, proprio, appena, appena fuori dal podio, quindi, va bene, casse, forse, ci aspettavamo, magari, un po' di più, diciamo che, è un po' standardizzata, la sua, cioè, sono un po' standardizzate, le sue prestazioni, magari, top 10, o, bei risultati, se si riuscisse a fare, magari, quel, quello step in più, lo scorso anno, vabbè, ottenne, se non ricordo, a Wengen, un podio, comunque, chiuse, chiuse terzo, nella, nella discesa di Wengen, e, vabbè, ok, non ripetere, magari, il podio quest'anno, cioè, anche perché, vabbè, ci sarà comunque, domani, Super G, dopodomani, l'altra discesa, quindi, il tempo per fare bene, magari, per trovare, una, veramente, un'ottima giornata, c'è, però, vabbè, parlando della gara di oggi, comunque, settima posizione, una buona top 10, però, magari, qualcuno si aspettavano, un qualcosina in più, o, quantomeno, era l'italiano, dal quale, ci si poteva aspettare, il risultato migliore, però, sappiamo, cioè, che non è tutto scritto, proprio, a macchinetta, cioè, altrimenti, non le guarderemmo, nemmeno le gare, però, vabbè, queste sono le mie, le mie considerazioni, ovviamente, ditemi voi, anche voi, cosa, cosa ne pensate, quindi, nel complesso, buona prova italiana, abbiamo anche un inner offer, che chiude in top, in top 20, che paga un po' troppo nel finale, se non ricordo male, e comunque, in generale, almeno, per quel che mi riguarda, una gran bella pista, una gran bella gara, beh, poi ci sono questi passaggi iconici, cioè, non, ti rimangono in testa, stampati in mente, e quindi, non vedi l'ora, che arrivi quella gara, solo per gustarti, i passaggi dei corridori, proprio in quei, in quei tratti, ed è quello che succede a me, quindi, aspettiamo domani, questo Super G, domani, anche Super G femminile, abbiamo detto, quindi domani, è tempo di, di Super Giganti, per quanto riguarda, beh, le ultime gare, che si sono svolte, sulle quali, purtroppo, non ho potuto fare il video, garanzia, Federica Brignone, no, altro podio per lei, terza posizione, a cranisca, ancora, quindi, va benissimo così, e, e per quanto riguarda, poi, lo slalom speciale femminile, una Petra Vlova, che torna, insomma, a vincere, ed è una bella scossa, dopo, se non ricordo male, il risultato, un po' deludente, del gigante, perché, ovviamente, sono passati dei giorni, quindi, come sapete, insomma, la mia memoria, non è che mi assista, più, più di tanto, però, per quanto riguarda gli uomini, cioè, ci credete se vi dico che, che non ricordo, cosa, cosa sia successo, nelle ultime gare, però, vabbè, ormai, ormai sono passate, comunque abbiamo, per la classifica generale, abbiamo detto, un Odermatt, lanciatissimo, lanciatissimo, proprio, e, in ottica italiana, ah, vabbè, ecco, ecco, qualcosa mi sono ricordato, lo slalom maschile, no, con un buon Tommaso Sala, in, in top ten, che chiude, se non ricordo male, in settima, posizione, peccato, era terzo, dopo la prima manche, ma, chiudere, chiudere settimo, ripeto, seconda manche, ok, non all'altezza della prima, però, a bocce ferme, dicevi, ok, Tommaso Sala, in top ten, settimo, anzi, cioè, io credo, io credo proprio con il sangue la firma, credo, eh, da parte mia, quindi, va bene così, per quel risultato, insomma, va bene così, e, che dire, probabilmente, ci vedremo domani, insomma, almeno che, insomma, non, non possa fare video, per qualche motivo, ci può essere sempre qualche motivo, insomma, dietro l'angolo, qualche, qualche imprevisto, però, iscrivetevi, campanella mi piace, forze azzurri, ancora, grandissimo, Odermat, al prossimo video,